Grazie amore, questi bellissimi fiori per me No, me li hanno mandati a me, Maria, grazie Buonissimi Buonissimi, sono allergico Allora, domani è il compleanno di Leone, sto montando un piccolo video Stiamo montando Cosa? Stiamo montando un piccolo video per il compleanno E tu in che modo staresti montando? Io ti passo dei video Ma che cosa? Io devo passare tutta la notte a montare, c'ho più di 300 video Ma è un'emozione unica, guardate che bello che era Amore mio, come ero giovane anch'io